No! Il mio destino si trova nella sala delle anime. Questo non è il mio destino. Io ero nato per la gloria! Questo non è mai stato il tuo destino. Tua sorella ha fatto in modo che lo credessi. Ho fatto tutto questo per me. No! Non provare ad andartene! Aspetta! La Trinità ha ucciso tuo padre! No! Stai mentendo! Ha implorato per la sua vita. E quando non ha funzionato, ha implorato per la tua. Non mi abbasso al tuo livello. Brucia l'inferno.